Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con i nostri gamberetti signori. Allora, prima di partire il video vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi trovate come Maullo941 e soprattutto perché tramite le stories vi informo sulla programmazione dei vari video che usciranno durante il giorno e sulle live che faremo sia su questa che sull'altra piattaforma, quella viola. E vi ricordo anche di seguirmi, anche su quella mi trovate anche lì come Maullo941. Detto questo signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Allora, io ne ho letto i vostri commenti, ho seguito il commento quello di fare gli allenamenti signori, quindi io farò tutti i vari allenamenti e li farò tutti così da prendere possibilmente tutte le A e non dover poi perdere sempre tempo a fare tutti gli allenamenti ogni volta o a stimularli e rischiare che vadano male. Ovviamente li taglierò durante questi video così non ci sarà questa perdita di tempo. Detto questo signori, io vorrei prima di partire, prima di partire e andare verso il torneo estivo che oggi ci giocheremo tutto vorrei andare a vedere la lista svincolati perché noi abbiamo una possibilità di comprare un giocatore dalla lista svincolati uno ad anno praticamente, l'unica regola che ci siamo dati ovvero la possibilità di comprarci uno svincolato ma chi se ne frega, dai, ne so fa queste cose. Allora, abbiamo Targawal, no, no, vediamo se ce n'è qualcuno di interessante Palus Arugiri, 32 anni ma difensore centrale siamo messi bene A me chi mi manca, difensore centrale, esterno destro, mamma mia, stai terribile Uh, 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 esterno sinistro, 36 anni, mamma mia, questo viene a fare la pensione da noi No, 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 niente, niente, niente Attaccanti, difensori centrali, non ci interessano Qualcuno che proprio uno dice, ehi là, so, soglia Ma difensore centrale non ci serve Fiola non ci serve nemmeno Dai, 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 che lo troviamo Alfrenson, un cdc Puoi rimanere, dove stai Iliev Se voi trovate qualche nome interessante Johnson, 33 anni, centrocampista, ma centrocampo siamo messi bene Niente da fare A me se non ricordo male ci manca un esterno sinistro, signori Ui, ui, aspetta un attimo, avevo visto uno No, sì, lui forse Difensore centrale Questo potrebbe essere tanta roba Ma, signori No, è inutile che ci riempiamo la rosa Già di giocatori che poi si andranno a lamentare Tutti durante Durante l'anno Singerson Peccato che il centrocampo siamo messi bene Ci saremmo potuti fare una bella squadra svedese Come non ce ne sarebbe mai vista al mondo Niente, signori Tra gli svingolati non c'è la cippa di nulla Bella così Ottimo inizio, signori Ottimo inizio Allora, andiamo avanti Andiamo avanti Noi il primo allenamento l'abbiamo fatto Quindi questa Dovebbe andare avanti Dovremmo arrivare all'altra giornata Ok, signori Io ho fatto gli allenamenti Qui c'è una mail di Lavelle Che non so cosa voglia Mi dà il benvenuto E in tutti i dati per il futuro Speriamo bene, Lavelle Speriamo bene Speriamo bene Io ho fatto gli allenamenti, signori Come era stato Come Dico dovevamo fare E Va bene Siamo pronti a scendere in campo per la prima partita Faremo simulazione partita, signori L'anno scorso facciamo un tipo simulazione veloce E ci aveva il risultato subito Quest'anno faremo simulazione partita Così ci godremo la partita fino all'ultimo Io voglio sapere eventualmente nei commenti, signori Se voi volete che ci giochiamo un'entrata O due entrate a partita Fatemelo sapere nei commenti Eventualmente se vediamo che c'è qualche azione Interessante Ce la potremo giocare noi entrando in partita Ma massimo una, due volte a partita Non di più Detto questa, la prima partita è contro il Rockdal, signori Oh, c'è pure il commento audio Spettacolo Dai così, mare camber Dai camberetti Dai camberetti Dai camberetti Noi siamo quelli rossi Vai Le Smith Vai Le Smith Il cross al centro Ah, peccato Dai, 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 signori Difesa, difesa, difesa Scendi in campo Gestione squadra Cambia piano di gioco E pausa Va bene, va bene Ok No, no Esci portiero Grande Elstad Rinvio di Elstad Parlo dal centrocampo Sì, tra l'audio mio Dai, buono, buono, buono tira La tira, la tira No, abbiamo perso palla Quanto siamo al ventesimo Dai, dai così, signori Dai così, dai, dai No, no, no Difesa, difesa Difesa Chiudilo, chiudilo, chiudilo No, era tutto solo davanti al limite Mamma mia Come giochiamo di merda Ragazzoli Rotbon La vedo parecchio difficile Risalita verso la Premier League Signori La vedo difficilissima La vedo difficilissima Stiamo già sotto 2-0 al venticinquesimo Dai, 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 dai Ci bucano come il formaggio Un coltello caldo come il formaggio Mamma mia Chiudetelo Chiudetelo Dai, dai Contropiede Contropiede, signori Ricopriamo la palla Forza, forza, forza Forza Va bene così Va bene così Va bene così Dai, 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 dai Dai, dai, dai Ma sempre loro C'hanno la palla Signori, 34esimo 34esimo Abbiamo la squadra Metà stanca Dai, ripartiamo Dai, ripartiamo Wilding Dai, Wilding Bello così Vai, Let's meet Vai Dai, 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 dai Oh Mannaggia La stavamo facendo Un'azione buona, signori Io in questa partita Non entro completamente Signori Non prende il possesso Dei gamberetti Noi non abbiamo mai giocato Con i gamberetti Nella scorsa stagione Abbiamo simulato sempre Tutte le partite Io voglio sapere nei commenti Se volete che facciamo Una barra due Entrata a partita Secondo delle azioni Magari Se c'è qualche azione Che potrebbe mettersi bene Se trovare noi Mamma mia Che parata di Elstad Grande Elstad Palla al centro Sul calcio d'angolo Finisce il primo tempo Stanno vincendo loro 2-0 Signori Io non ho visto Grandi Grandi Come faccio Ok Ok Va bene Valutazioni 7.6 7.6 Tutti su 6 Siamo signori Quindi non vedo Grossi Grossi Movimenti da fare Dai così Dai 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 signori Ce la possiamo fare Possesso palla No aspettate Non volevo Le statistiche Volevo In riforma Ecco Questo è di qua Dai 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 ripartiamo Dai ripartiamo Dai 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 Così Accelererà 18 Che è il 18 Primes Dai Primes Dai il 17 Le smith Dai Tira la Tira la Tira la Dai 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 che ci siamo Dai che ci siamo Che lo pareggiamo Dai dai che accorciamo Le distanze No la pareggiamo Magari la pareggiamo No ci siamo persi Mannaggia Calcio un angolo Per noi Vai vai Wilding La mette al centro Palla buttata fuori Occhio che ripartano loro In contropiede Occhio che ripartano loro In contropiede E ci fanno E ci fanno No 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 Via sta palla Via sta palla Signori Hanno fatto il contropiede Quello che temevo Dai via 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 Recupera 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 La Velle Recupera La Velle Non te lo perdere Non te lo perdere Henry No No Fuori questa palla Fuori questa palla Porca miseria No Non ci credo Non ci credo Signori Ah meno male Che era fuori gioco Dai che ripartiamo Dai che ripartiamo Dai che ripartiamo Dai 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 Fuori gioco pure nostro Noi dovremmo fare Delle sostituzioni Però dovremmo fare Delle sostituzioni Appena la palla esce Signori facciamo Delle sostituzioni Bello il contropiede Bello il contropiede Dai dai Sacca di testa Dai dai Tira la Tira la Tira la No ma che Ma che Gestione squadra Fermi fermi signori Vediamo di fare dei cambi Vediamo di fare dei cambi Allora 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 Leviamo La Velle No Leviamo Kate Nightsmith E dentro Davis Ok Leviamo Will Leviamo Diagugurara E facciamo entrare Kanon Anche se non è proprio la sua posizione Fuori Stockholm Dentro McCulley Dai Non è passato troppo lontano dallo specchio Prendiamo la partita Abbiamo fatto tre cambi Per cercare di dare più forza Alla squadra Signori Uno in difesa Uno a centrocampo E uno in attacco Così vediamo di Dar fiato A tutti e tre reparti Siamo all'ottantesimo Anche l'ultimo dieci minuti Signori Dai dai Fuori Dai dai Ripartiamo Ripartiamo signori Bello il contropiede Vai 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 Sullivan Vai vai Palla al centro L'abbiamo perso Mannaggia Stanno ripartendo loro in contropiede Stanno ripartendo loro in contropiede Dai 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 Fuori 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 Teniamoli Teniamoli Dai signori Dai signori Niente oramai è finita signori Ottantasettesimo Anche se troviamo il gol del 2 a 1 Penso che sia finita così Penso che sia finita Bello No non ci credo Ma che ci hanno in porta Superman Signori Dai Ah no era fuori gioco Due minuti di recupero Penso la partita ormai Si è finita qui E infatti Albero fischia Muore gambe Prima sconfitta per i nostri gamberetti In questa In questo torneo estivo Signori Allora 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 signori Allora Io volevo farmi tutto il torneo estivo In questo video Ma ogni partita dura 3 ore Praticamente Quindi Siccome io ve le lascio tutte Perché comunque c'è anche il mio commento E Altra domanda Prima di passare al prossimo Intanto avanziamo verso la partita Della prossima amichevole Dove che ci fermiamo Allora domande Due domande signori Uno Guardate Maullo che manda a quel paese Tutti quanti Due domande Uno Vogliamo entrare una o due volte a partita Due Vogliamo fare questo tipo di simulazione Facciamo la simulazione quella istantanea Così vediamo subito il risultato Non pensiamo alle sostituzioni Andiamo proprio avanti dritto per dritto Detto questo signori Fatemelo sapere nei commenti Come volete procedere Noi Io non registrerò il video successivo Quello che vedrete domani Aspetto di leggere i commenti di voi Sotto questo video Se c'è qualcosa di interessante Qualche commento utile Ne prenderò atto Se no Manderò avanti In questa modalità Detto questo signori Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per il like Per i commenti Per i suggerimenti Vi ricordo di iscrivervi al canale Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao 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 Ciao